Terraverde oggi qui a Frutti in Fiore, la 22esima edizione di Frutti in Fiore qui a Lagnasco, un paese del marcasato di Saluzzo, ma che oggi ha il sapore, ha il sapore della frutta, del gusto e del colore. E oggi siamo qui con, ecco voglio presentarvi questo, questo è proprio Frutti in Fiore, Sola Lagnasco, la manifestazione per la frutta sana, buona e in fiore. E' come una pochette che si tiene in un taschino e oggi la conserviamo perché è il nostro simbolo, è il nostro sorriso, oggi qua da Frutti in Fiore. E' Frutti in Fiore, proprio qui sul corso che si arriva, ma ci sono questi due trattori con le bandiere italiane che dicono salviamo l'agricoltura italiana, agricoltori e autonomi italiani. E' un motivo in più per dire che l'attenzione, l'attenzione ai valori dell'agricoltura sono importanti, ma incamminiamoci verso quelle vie, la via Roma, guardate qui anche dinanzi a noi la bellezza del spazio Aspro Food, come diventa ormai un mercato aperto proprio dedicato all'agricoltura. E incamminiamoci, incammoniamoci verso Frutti in Fiore. Viviamo un fiore in un frutto, oggi qui dall'Agnasco. Entriamo, entriamo qui proprio nella via che si porta verso la piazza Umberto. Tanti, tanti, tanti espositori, tanti gazebo blu proprio che raccontano la loro storia dei artigiani. E Frutti in Fiore è nato proprio da un'intuizione degli allora presidenti Giovanni Rubiolo e vicepresidente Domenico Sacchetto di Aspro Food. Nel 97 inventarono Farmer Fruit, manifestazione per la promozione del territorio e dell'economia locale, che si era svolta sul piazzale appunto dell'Aspro Food. Ma per smariati motivi quell'iniziativa non ha avuto il seguito. E così è stato però un motivo per uno spunto di Frutti in Fiore. E proprio qui all'Agnasco, buongiorno, buongiorno, nell'autunna del 2002, Domenico Sacchetto era diventato presidente di Aspro Food. E' forte dell'esperienza fatta con l'allora sindaco Paolo Persico. Con tutti i frutticoltori decisero di evidenziare tutti i frutticoltori del nostro territorio. E l'allora presidente della Proloco, Gigi Colombano, vice sindaco Bruno Mana, nacque, prese forma, Frutti in Fiore. Il nome era stato trovato, il periodo di svolgimento anche, il primo e il secondo weekend del mese d'aprile. E allora, in quel 2003, Frutti in Fiore vide la luce. E qui è un primo momento, un primo momento, ma vedete che la vendita si vive già qui all'Agnasco, a Frutti in Fiore, diciamo proprio dalla società agricola Valle Infernoto. E vediamo Matteo, uno dei titolari che sta già vendendo i suoi formaggi, eccetera. E la tuma piace, la tuma piace. E adesso incontriamo Matteo, proprio per conoscere l'azienda. Ma guardate qui quanti formaggi particolari, latte crudo peperoncino, latte crudo erbe di Provenza. E insomma ci sono tante, tante verità di gusto e di profumi. E allora ci avviciniamo e conosciamo e parliamo. Oggi Frutti in Fiore sarà tra bellezza e parole. Conosciamo Matteo. E qui salutiamo, salutiamo Matteo che con i guanti ovviamente ci salutiamo a Spallotto. Con Matteo avviciniamoci qui al tuo mondo, eccetera, allo stand importante. Abbiamo già visto proprio che la vendita si fa dal mattino. Siete di Barge, società agricola Infernoto. Ecco, curiosità, questo nome Infernoto per te. Il suo nome arriva dalla nostra valle, che comprende sia Barge che Bagnolo. Valle Infernoto. Esatto. È una valle molto ampia e ricca di ottimi paesaggi e di ottime... E parliamo dei tuoi, avvicinati, avvicinati qua a me, parliamo dei tuoi prodotti, ad esempio questo che proprio prima citavo, latte crudo, erbe di Provenza e latte crudo al peperoncino. La nostra specialità è un formaggio al latte crudo, cioè non viene pastorizzato il latte, viene subito trasformato il latte in formaggio. Facciamo sia la varietà con le erbe di Provenza, peperoncino pure naturale, per proprio assaporare il gusto del latte nel formaggio. Il gusto del latte nel formaggio. E qui invece vedo tanti prodotti. Leggo addirittura yogurt bianco, insomma, fate diversi prodotti. Facciamo diversi cose, sia dai tomini freschi classici, che dagli semi stagionati, ad esempio le paglierine piemontesi, oppure dal burro agli yogurt al stracchino. Quindi la vostra attività è una produzione interna all'azienda, perché qui a Frutti in Fiore c'è il valore, oggi conosceremo tanti amici di Frutti in Fiore che oggi sono con noi su questo speciale terraverde, ma è la peculiarità del prodotto. E voi lo chiedete. Sì, su questo noi siamo molto forti, infatti oltre ad essere produttori siamo anche allevatori, abbiamo gli animali, noi quindi riusciamo a gestire tutta la filiera, sia dall'alimentazione degli animali che alla produzione del formaggio. Ecco, questo è importante, quindi Barge c'è lì a Frutti in Fiore. I tuoi fratelli, nominiamoli. Sì, salutiamo Paolo e Alberto che anche loro sono in giro per fiere. In giro per fiere, insomma, da Barge, dalla Valle Infernotto si arriva dove c'è il gusto del Piemonte. Esatto. E viviamo ancora qualche immagine dei prodotti qui dell'azienda agricola Valle Infernotto. Ben grazie. Si incontrano amici di Terraverde, da dove venite? San Chiaffreddo di Busca. San Chiaffreddo di Busca. E qui Frutti in Fiore è questo, mano e gusto insieme. E qui, e qui si cammina Frutti in Fiore, si cammina Frutti in Fiore, ma siamo da qualche amico speciale di Terraverde, Ballari, Paste di Menega. Paste di Menega ti torna a San Giorgio. Io vorrei, vorrei, ma la mano c'è un metro, c'è un metro, ma io risolvo il problema, risolvo il problema. Mi avvicino Andrea, mi avvicino Andrea. Ma Andrea, ciao innanzitutto. Piacere di rivederti. Buongiorno. Roberta, 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 volevo che lo decessi lei, mi aveva detto il nome, mi aveva detto, lo lascio dire da lei in modo ufficiale, perché questa è l'azienda Ballari. Esatto. Il futuro dell'azienda Ballari. Esatto. Il futuro. E le paste di Menega di Torre San Giorgio, Torre San Giorgio, abbiamo visto là proprio il cofanetto bello di paste di Menega di Torre San Giorgio. Insomma, questa pasta di Menega, la mano va, ma non posso, me la devi poi dare tu, me la devi poi dare tu dopo. Ecco, Torre San Giorgio, questa tradizione della pasticceria, dei grandi nomi, ma pasta di Menega è un'eccellenza. Esatto, esatto, da 30 anni in questa parte, oramai ci siamo specializzati in questo, facciamo le fiere più importanti della provincia di Cuneo e niente, oramai è diventato il nostro cavallo di battaglia. Sono le tradizionali e poi le facciamo in due varianti, con le gocce di cioccolato e al caffè. Gocce di cioccolato e al caffè, voglio Roberta vedere i sacchettini. Questo è gocce di cioccolato, gocce di cioccolato e al caffè. E al buon mattino un caffè ci vuole, ma perché non legare insieme al caffè una pasta di Menega? Adesso vado da Roberta, ma questa sua moglie, moglie di un pasticcere, moglie mi viene quasi da dire di una pasta di Menega, perché la tradizione è quella. Ma una moglie di una pasta di Menega, insomma, questo lavoro è un profumo tutti i giorni. Sì, io sono due anni che sono con mio marito in negozio e niente, se venite a Torre San Giorgio io sono là, che vi aspetto. Quindi gli occhi azzurri della moglie con la pasta di Menega, beh, ahimè, qui i sacchetti si dicono mi dia questo, mi dia questo, mi dia quello, mi dia quello. E dopo che si assaggiano si torna indietro, mi dia quello, mi dia quello, voglio questo, insomma, qui i sacchetti si vogliono. Allora, bene, cosa si può dire? Che Torre San Giorgio ha tante bellezze le sue tradizioni, adesso ci sarà la sagra del fritto misto, ma ballare in quell'angolino, e in quell'angolino di bellezza della via si arriva e là la pasta di Menega c'è. E allora non resisto, una pasta di Menega la voglio. Volentieri, eccola qua. Ah, ecco, e allora questa pasta di Menega di Ballari, profumo particolare, non si può che gustare qui a frutti in fiore. E continuiamo con una pasta di Menega di Ballari a vivere frutti in fiore. E tanti stand, tanta voglia di essere frutti in fiore, ma anche la solidarietà. E questa, quando si parla di anziani, si parla di sollievo, si parla di sorriso, donato ad un anziano, bisogna sempre esserci la casa di riposo, la casa di riposo qui di... ditelo voi tutti insieme, di... di l'agnasco, di l'agnasco. Venite volentieri. Ecco, questi lavori sono tutti fatti da voi. Hanno proprio bisogno della gente che aiuta. Cagliaio. Sì, sì, guarda, questa è una signora che con una mano sola ha ricamato queste cose. Signora con una mano sola ha ricamato. E quindi qui tanti, tanti prodotti. Fatti anche dalle volontarie che sono molto, molto affezionate agli anziani della casa di riposo. E allora diciamoci una cosa, diciamo una bella... mentre inquadriamo tutti questi bei lavoretti che fate, che sono immensi, anche questi sono davvero, sembrano opere d'arte, guardate che bella, io mi prendo questa bambolina, questa bambolina insieme che mi scappa di mano e dico, e dico che gli anziani sono davvero quel sorriso in più che noi dobbiamo sempre, sempre donare e grazie ai volontari che davvero, davvero si dedicano. Allora diciamo, non diciamo viva frutta in fiore, ma diciamo viva gli anziani. Al mio tre, proviamo insieme. Uno, due, tre. Viva gli anziani. E viva, e viva. Grazie. E qui, proprio nella via che ormai si riempie, come di tradizione, qui a frutta in fiore, ma dolcezze di Garello Laura. Dolcezze di Garello Laura, ecco che incontriamo subito Laura, che la salutiamo. Ciao Laura, ciao Laura, ecco qui tanti prodotti da Trinità, perché una caratteristica di frutta in fiore sono le aziende artigiane, le aziende che hanno un valore di artigianalità, ma io Laura vengo da te, ti raggiungo proprio per parlare di questi prodotti meravigliosi. Ecco, tu sei giovane in questa azienda, a Trinità. Sì, ho aperto a luglio dell'anno scorso, quindi non è neanche un anno di attività, e l'ho aperto perché la mia passione è proprio i dolci e non riuscirei nel senso proprio a lavorare in un altro mondo, perché io mi trovo nel mio, quando sono un pochettino tipo nervosa mi chiudo nel mio laboratorio e creo, provo. Poi mi piace molto sperimentare soprattutto sul key design, le torte un po' più particolari del compleanno, sulla monumentale, impasta di zucchero. E pensate, pensate che Laura mi ha detto, Claudio non sono abituata, non sono abituata invece, è veramente preparatissima, ha un sorriso meraviglioso. Laura, tanti dolci qua, tanti dolci qua, ecco quindi tu hai un negozio, un'attività? Sì, io non ho il negozio punto vendita al dettaglio, ma hai una produzione. Sì, ho un laboratorio dove produco comunque tutta la biscotteria che vedete qua in fiera. Vedete il laboratorio, l'idea del laboratorio è una cosa importante, una cosa importante a me quasi quasi viene da posare la cartellina e vorrei quasi quasi sedermi qua, perché si sta bene, potrei prendere la sedia e quasi quasi sedermi, ma quindi il laboratorio vuol dire produzione, vuol dire fatta a mano, vuol dire fatto col cuore e vuol dire anche creatività, perché vedo anche dettagli particolari. Sì, esatto, io comunque oggi per questa fiera ho prodotto tante tipologie di biscotti, già ne ho solo 15 tipologie, partendo dalla nocciola, che comunque nella nostra zona è molto importante perché ci sono tante coltivazioni, a differenza di l'Agnasco che ci sono... Ma questi sono curiosi, che vedevamo... Questi sono le monoporzioni più fresche, nel senso una cheesecake a frutti di bosco, oppure una sacker o la torta alla frutta con base di frolla e crema pasticcia. Bontà, bontà, io quasi quasi quel frigo poi lo apro e chissà, io ho già individuato quella alla frutta con le fragole, chissà che dico gnam gnam me la prendo, gnam gnam me la prendo. Bello, anche questi ad esempio curiosissimi, no? I Rockbrune sono un biscotto col cacao e le nocciole intere dentro e sono proprio per anche richiamare un po' la nostra terra della zona da dove arrivo io. Ho fatto questi qua. Una bellezza, io provo ad alzare qualche pacchetto anche se ne avrei... Anche questi mi... La Sabese sempre con, anziché avere le nocciole intere, sono con la polvere di nocciole e sempre col cacao, altrimenti qualcosa di più particolare possiamo andare su questo biscotto col grano saraceno. Grano saraceno, la signora Laura parla velocissimo e preparatissima, più veloce di me, più veloce di me. Questo è benissimo, questo è proprio preparato con il grano saraceno. Sì, esclusivamente solo farina di grano saraceno e oltretutto non contiene neanche burro, quindi è un biscotto che per gli intolleranti diciamo al lattosio può essere un'idea. Ecco, insomma io sono arrivato a tre, ma la mano deve essere piena. Allora, alziamo ancora, consigliami tu un pacchetto... Questi qua alla castagna. Ah, questi alla castagna. Ecco, la castagna è un altro prodotto che nelle zone anche montane, insomma è un prodotto che va tutelato, è nell'eccellenza del nostro prodotto. Quindi questi hanno... Questi hanno farina di castagne e all'interno hanno dei pezzi di cioccolato al latte per cambiare un po', nel senso non lasciare solo la castagna, perché la castagna comunque ha un gusto molto particolare e non a tutti può piacere. Diciamo che si chiamano i cookies perché sono biscotti un po' più grandi, vanno bene anche come in zuppo, da mangiare a colazione. Colazione, sapore della castagna, ma io voglio fare così, voglio provare davvero a fare così. Vogliamo vederne uno, ma guardate che belle queste piccolarità, laboratori artigianali che fanno queste predibattezze di gusto e di profumi, nonostante che è chiusa, si sente il suo profumo. Sì, la torta alla frutta è la classica torta, ma è quella sempre amata da tutti, perché è molto fresca, soprattutto in questa stagione tra le primavera e l'estate e quella che hai più voglia di mangiare. Primavera, estate, qui a Trinità, un motivo in più con la torta alla frutta. Trinità, è un'indicazione precisa, Trinità, dolcezza di Laura, dolcezza di Laura. Ci arriva Trinità, dolcezza di Laura e la torta alla frutta in questa stagione è quella preferita. Allora, grazie Laura, grazie Laura, viciniamoci proprio alla camera, mi dice Claudio, ti consiglio la torta di nocciole che va mangiata con lo zabaglione perché ti dà forza per frutta in fiore. E allora il tuo sorriso, la torta di nocciole e pensando a uno zabaglione che mangeremo, insomma, frutta in fiore, ci stiamo benissimo. Grazie. Grazie a te e dolcezze di Laura. Ma incontrare qui a Frutta in Fiore, guardate quanta gente, ma non poteva mancare, il signore, una delle anime qui di Frutta in Fiore, Gigi Colombano. Gigi Colombano, la bicicletta non manca perché Frutta in Fiore e bici, è partita poco fa una corsa che arriva, va nei frutteti, fa vivere le bellezze qui di Lagnasco e noi vivremo nell'arrivo. Lascio a te, ma tu sei l'anima, questo Frutta in Fiore, questa ventiduesima edizione. Sì, è partita poco fa appunto la camminata tra i Frutta in Fiore, una camminata che si svolge ormai da tantissimi anni, appunto nei Frutta in Fiore e l'arrivo in piazza Umberto I, quindi nel cuore di Frutta in Fiore. Tante immagini abbiamo visto in questi giorni dall'inaugurazione, dal premio Frutta in Fiore meravigliosa, nelle immagini del senatore, del deputato Delfino, insomma un mondo che si esprime, occolto quella semplice ruralità in un'evoluzione moderna nei macchinari eccetera però si respirava proprio quell'anima semplice, come si respira oggi, che voi ostinatamente da quel 2003 volete continuare a mantenere. Esatto, noi la nostra manifestazione è nata proprio per questo, per far conoscere il nostro territorio, il nostro prodotto e la nostra gente. Vogliamo che ci conoscano così come siamo, quindi cerchiamo sempre tutti gli anni di fare qualcosa di nuovo, di evolversi, di fare, di presentare cose nuove, ma vogliamo restare sempre noi, cioè noi che presentiamo il nostro territorio, la nostra frutta, noi che siamo l'Agnasco e siamo orgogliosi di essere l'Agnaschesi. Siete orgogliosi di essere l'Agnaschesi, questo è estremamente importante perché è proprio l'orgoglio di un prodotto. Abbiamo citato quando è nata quel pensiero agli inizi che proprio tu poc'anzi in questi giorni qui mi confidavi, Claudio, è stata dura all'inizio ma oggi si continua perché c'è proprio, è quasi come un desiderio ogni anno, anche con i presidenti della Proloco, di tutta l'associazione, di dire dobbiamo vivere frutti in fiore. Quasi ci verrebbe da dare un piccolo consiglio, perché non una settimana in più? Ci abbiamo pensato tante volte, però purtroppo appunto L'Agnasco è un piccolo paesino che ha i suoi ritmi e la sua vita. Noi sconvolgiamo così la vita normale dei l'Agnaschesi per più di una settimana perché naturalmente tutti i preparativi e tutte le cose cominciano molto prima e poi prima che riusciamo a smontare tutto ci passano ancora altri giorni. Se facessimo una settimana sicuramente sconvolgeremo la vita dei l'Agnaschesi per un mese non mi sembra giusto. Però chissà mai dire mai e io farei una cosa, proprio dobbiamo andare all'arrivo della corsa ma io voglio correre anch'io, allora andiamo io e te in bicicletta e partiamo, tu in bici e io a piedi io provo a correre un po', andiamo verso Piazza Umberto I, che arriverà, arriverà la corsa a Malizia, al Castello, ci sono tante bellezze che viviamo insieme oggi a Frutti in Fiore. Andiamo, andiamo Gigi. E camminare, camminare qui sempre Frutti in Fiore anche nella zona Asprofo dove ci sono mezzi agricoli non solo, ma qui siamo proprio nella zona del Roera, è zona del Roera dove leggo Novarino e Roera, strutture di ogni genere ma incontriamo Novarino e Luciano, ci diamo la mano, grazie, ecco io appoggio la mia cartellina ma proprio perché la serra e poi in fondo si parla di frutti in fiore, si parla di fiori, si parla di mantenimento ma quanti ortaggi, quanti cereali se non ci fossero serre che nei tempi ce le ricordiamo, con quei nail intirati malamente invece oggi ci sono delle serre che sono quasi delle case a vivere, ecco, nel Roero questa realtà Novarino queste serre, ecco parliamo un po' anche un'evoluzione moderna di quello che è il mondo di protezione ma non solo Sì, sì, con questi cambiamenti climatici oramai diciamo che la serra è diventata indispensabile per riuscire a proteggere la propria cultura riuscire ad ottenere comunque il massimo da quello che uno coltiva in maniera diciamo più tecnica E immagino le serre ormai una volta si vedevano di dimensioni piccole ma ormai tutte le misure sono compatibili Cioè nel senso si possono estendere anche per produzione abbastanza grandi, abbastanza distante Sì, sì, facciamo produzione per piccoli orti dove c'è diciamo l'amatore che ha il piacere di fare il proprio orticello coltivare le sue cose, a diciamo i professionisti dove facciamo strutture di dimensioni abbastanza grandi È bello vedere il signore che sorveglia, guarda la dimensione quasi a proteggere la serie quasi con curiosità Ma è giusto, è giusto, Frutti in Fiore è questo, è questo movimento di gente che chiede informazioni e si muove È sempre una fiera importante Ecco, mi sovviene un pensiero, voi siete anche molto vicino vedendo quel signore che guardava anche agli artigiani, alle piccole imprese Sì, noi siamo rivolti un po' a tutti, sia al piccolo che vuole la serrettina proprio piccolina, 2 metri, 3, 4, 5, quello che serve Sia a quello grande che ha bisogno di dimensioni più professionali dove comunque avere un prodotto maggiore per la propria vendita L'idea curiosa è perché pensare all'agricoltura uno ci pensa magari più con facilità anche se poi la schiena e la fatica insomma c'è Ma le serre è un pensiero a creare un'azienda di produttori di serre, ecco quando è nata questa Novarino Serre? Ma la nostra azienda diciamo è abbastanza vecchia nel senso che era stata fondata da mio suocero negli anni 70 Dove quando si andava a curvare un tubo dell'acqua diciamo È proprio vero Una forma arrotondata per poter iniziare a mettere le prime cose L'inizio è stato quello L'inizio è stato quello, infatti si parla degli anni 70, 75, quelle date lì E poi poco per volta c'è stata l'evoluzione nel senso a seconda delle richieste del cliente Che poi è il cliente, l'agricoltore che ci chiede quello che serve Noi cerchiamo di andare Andare di incontro Certo, certo, quindi avete un'azienda diciamo modulata sulle richieste Sant'Anna una parola su questo Roero Qui siamo nel Marchesato di Saluzzo Ma il Roero è sempre una terra che vale Sta valendo di più e l'agricoltura si fa sentire col bombino e non solo Certo Diciamo che nella nostra zona la coltivazione è diventata abbastanza importante Perciò si va a proteggere le proprie culture con queste strutture Che le facciamo sia per risparmio energetico così di inverno uno riesce Assolutamente A risparmiare economicamente nel riscaldamento con strutture e anche strutture interne Per andare a fare delle riduzioni di camera Ultimamente si vengono anche applicate delle reti per cercare di fare una lotta integrata Sempre più biologica per avere prodotti sempre più naturali e potendo utilizzare sempre meno pesticidi Ecco questo è molto importante Quindi il clima, il cambiamento climatico L'idea della serra per adattarsi a un tempo che si evolve Che poi magari richiama negli anni venti c'era stato Sicuramente però ha detto una parola magica Meno pesticidi, prodotti biologici Questo è anche un messaggio che sicuramente c'è qui a Frutti in Fiore E' un messaggio di sostenibilità importante Importantissimo perché sia per quanto riguarda chi fa il prodotto Perciò chi lo lavora Che tra pesticidi e che alla fine della fiera Li deve respirare nel senso ci lavora a contatto E a livello di salute di chi lo coltiva L'evoluzione della serra è anche questo Grazie a Novarino Ecco sappiamo che ormai come diciamo sempre Il Marchesato di Soruzzo, Roero, La Langa E non solo perché poi il mercato si ampia anche nelle altre regioni C'è un mondo che si unisce nel mondo agricolo E teniamo ben conto dalle espressioni e dalle parole del signor Luciano Questo mondo di agricoltura anche delle piccole imprese è fondamentale Grazie e il motivo di una serra Possiamo concludere così Il motivo di una serra c'è sempre C'è sempre sia per coltivazione sia per ricoverare i foraggi, i attrezzi Quello che uno vuole Diciamo che una serra è un compagno di una famiglia Che vuole vivere nel gusto e nel prodotto E' proprio qui E' un'attesa struttura qui di frutti in fiore Tante, tante sono le cose Ma l'artigianalità Vuol dire frutti in fiore Ma vuole anche dire mondo del legno Incontriamo il signor Davide Che salutiamo Ma qui siamo Falegnameria Binello Ecco Siamo a Verzuolo Verzuolo Quindi la cultura del legno Intanto iniziamo a dire che è una terra che sicuramente c'è Essere presente a frutti in fiore Vuol dire in fondo E' una vetrina dell'artigianalità a tutto campo Sì Noi vogliamo appunto presentarci sul territorio Come un'azienda che dal 1978 Siamo sul territorio con i nostri serramenti in legno Da poco abbiamo allargato la nostra partnership Insieme ad aziende che producono con materiali diversi PVC, alluminio Siamo diventati partner dell'ADR Che è un'azienda importante sul territorio Quindi un mondo di collaborazioni importanti Quindi è anche una visione Vorrei una sua parola sulla storia Cioè ricordarsi Binello agli inizi E Binello nella modernità di oggi Ecco come è nata l'azienda L'azienda è stata fondata da mio padre insieme a un suo socio Pian pianino si sono evoluti Dalla produzione di serramenti in legno A produzione e commercializzazione di serramenti in legno e altri materiali Altri materiali Era il 78 Insomma un po' di anni sono passati Non uno, non due Ma qui si parla di decine di anni Vedo in lei Davide una modernità Meravigliosa C'è uno sguardo proprio di dire Il futuro è là Dobbiamo mantenere le tradizioni Ma dobbiamo andare là Siamo aperti anche a gestione domotiche Di serramenti, di aperture E quindi cerchiamo di mantenersi Nei tempi Sul tempo e sul pezzo Sul pezzo La fiera è poi un momento di incontro Di scambio dell'azienda Di incontro Ecco c'è un grande ritorno alle fiere E voi sarete presenti in diverse fiere Noi puntiamo a queste fiere qua di media grandezza Andiamo su queste fiere del territorio Andiamo a Caraglio Andiamo a Dronero Perché riusciamo ad avere più contatto con le persone Con la clientela Con le persone Con possibili clienti Indubbiamente Beh una domanda Va fatta Il mondo del legno Certamente è cambiato No? Sia in quello che è L'ambiente Forse anche un po' la sostenibilità No? C'è un mondo Dico quasi Vi vorrebbe da dire Quasi biologico C'è nel senso C'è un mondo C'è un'attenzione green Ecco Nel legno possiamo definirla Un'attenzione green particolare Noi cerchiamo di acquistare i materiali solamente da gruppi che trattano materiali provenienti da foreste Con una cultura sul rinnovamento delle piantagioni Quindi cerchiamo la sostenibilità dei materiali E appunto cerchiamo di rimanere anche con vernici particolari Con meno solventi Più prodotti ad acqua Un'attenzione green a un ambiente E il green Il mondo verde E il mondo terraverde C'è E' sempre più vivo Nei cuori E nella sensibilità della gente Davide Io voglio aprire le porte Come aprire le porte su frutti in fiore Andiamo E io da Binello Dalla Fagnanameria Binello Un fiore Che ne vediamo tanti Ma un legno Lo voglio portare con me E io da Binello E io da Binello